...di esibirsi, allora cominciamo con il primo gruppo, arrivano da Varese e fanno dell'ottima musica rap con, quando meno te l'aspetti come una bomba, gli OTR, forza ragazzi, eccoli! un giorno uguale a tanti altri altrettanti, giorni ancora uguali chissà quanti, davanti ho sonno, cammino, è il freddo del mattino, sta tentando in vano di svegliarmi, piano la campanella d'imbrino riesce invece nel suo intento, prima ora i posti di combattimento ma non si respira, in questa classe tira, un'aria dal coma profondo, vado in bagno e mi nascondo ma intanto disattento, entra il prof in classe, fortunatamente, nessuno si è accorto di niente, miei cari ci vediamo solo alla seconda ora in quanto a me, vado dal bidello a fagno in te, un te caldo a quest'ora, è quello che ci vuole, basta chiudere il bidello nell'armadio con le scopi, indosso un camice blu, onde evitare il peggio, mi siedo al banchetto e il mio test sorseggio, chiudo gli occhi, tipo rilassato, scusami se dire il bidello dov'è che è andato? apro gli occhi e quasi spengo, ma mi trattengo, mi sto strozzando con il te, sto tossendo, mi chiedo sogno sul destino, intanto non resisto, riesco ma alla pena, a rimanere in piedi con la sedia, lei mi guarda e mi chiede, dolcemente un gessetto e io rispondo che potendo ledo il mondo, lei mi dice sorridente, un gessetto è sufficiente e si offende a vita, se non l'aspetta l'uscita, quando meno te l'aspetti, 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 impiegata e messo male davvero stavolta, la noia di un tempo ormai morte sei forte, stavolta sento che son preso di brutto, che pota, aspetto impazienza all'uscita, intanto questi eterni secondi che ci dividono con te, quando arrivi mi dai tuoi libri e io li prendo a fatto che mi abbracci e mi riempi di bacio e tu non esiti né ti limiti, e ne ho dedotto che se son rotto steso, anche tu un bel botto hai preso, non abbiamo scampo, c'è un terremoto inarrestabile, ne siamo l'epicentro, ma è tempo di salutarci adesso davvero, non ne ho proprio voglia, al solo pensiero mi sento pazzo, come un pupazzo, del mappet show, mi dici dopo pranzo, mi sa che ci sarò, quando meno te l'aspetti, 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 che vada il cuore, tosta e testa, il cuore ti sfoglia, quando meno te l'aspetti, quando meno te l'aspetti, quando meno te l'aspetti, tu piegate messo male davvero stavolta mangio in fretta, sai mamma mi aspetta un lungo pomeriggio di studio duro, ed è sicuro che non ci si vede fino a stasera, si spera di non dover studiare tanto da saltar la cena e non appena esco, mia mamma alla porta, mi guarda, scettica domanda, commetto così tanta voglia di mettermi a studiare adesso quando l'ho fatta, appenare un quadrimestre intero studio con una mia amica troppo brava, che a scuola va troppo bene, studiare con lei conviene perfetta l'intesa, l'apprendimento aumenta e studiando in due il tutto interessante diventa studiamo in cucina, studiamo in cattina, studiamo in salotto e un pochino anche in giardino sul divano, sul letto, in veranda e sul tetto, seguiamo insieme un metodo di studio perfetto è sicuro, istruttivo, espressivo, attento ed attivo, facciamo i compiti col preservativo quando meno te l'aspetti che va dal cuore in testa e testa e cuore sfonda Quando meno te l'aspetti, come una bocca Quando meno te l'aspetti, come una bocca Quando meno te l'aspetti, come una bocca Che vada il cuore in testa e testa e cuore sfonda